Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi ricorda le partite che il Napoli ha giocato prima del cambio allenatore e ci arrivo e vi spiego anche il perché di questa ovviamente affermazione andiamo ad analizzare Napoli-Cagliari post partita e pagelle prima di cominciare ovviamente iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e un bel like a questa risalita del Napoli, dai che sia di buono auspicio dopo questo Napoli-Cagliari abbiamo sfatato il tabù Maradona anche in campionato faremo questa analisi con alcuni screenshot e vi riporto anche una partita che sta tornando di moda in base al match di ieri ho ricevuto un commento sotto la live di ieri che mi ha fatto un tantino riflettere perché viene messa questa partita a paragone di quella di ieri ma ci arriviamo, partiamo col dire non mi è piaciuta e continua a non piacermi la direzione arbitrale per quanto riguarda i cartellini allora per quanto riguarda questi cartellini io posso dire almeno dal mio punto di vista poi correggetemi voi nel caso io veda un'altra partita o faccia affermazioni poco congrue a ciò che è stato il match ma per me Pavoletti, Augiello e Goldanica andavano ammoniti molto prima per alcuni interventi al limite del regolamento dai diciamo così Nandez ha massacrato praticamente Quaraskelia per tutto il primo tempo e l'arbitro ovviamente io non dico che non voglio dire che sia una gestione contro il Napoli assolutamente è che in una partita del genere dove ci possono essere tanti falli partita maschie a centro campo poi potresti diciamo subito mettere le cose in chiaro ammonendo chi deve essere ammonito per falli da ammonizione scritti ovviamente sul regolamento del calcio detto questo non vado sul gol annullato a Politano perché le opinioni sono discordanti c'è chi dice che alla fine la posizione di Osimène potrebbe essere ininfluente io appena ho visto il gol devo dire la verità la mia prima impressione è stata ok lo annullano perché Osimène comunque va verso il pallone è vero che il difensore del Cagliari non lo vede proprio va verso il pallone avendo Osimène dietro però c'è anche da dire che il difensore del Cagliari va verso quel pallone perché ovviamente la palla arrivava alla nostra punta al nostro attaccante centrale e quindi potrebbe essere stata valutata una posizione attiva come si dice ma ce ne faremo una ragione poi al limite se tra qualche secolo dovesse uscire qualcuno qualche addetto ai lavori che è più chiaro per quanto riguarda quella situazione ben venga allora andiamo a vedere cosa è successo durante la partita vi faccio vedere un attimo uno screenshot con con le ammonizioni e i cartellini con le ammonizioni e le sostituzioni perché è anche da qui che si può vedere appunto una gestione una gestione poco felice ecco poco felice di questi cartellini gialli ammoniti per il Napoli Osimène Racamani per proteste non per proteste ma per una situazione una baruffa diciamo che è successa poi a fine primo tempo Mario Rui Politano e Anghissà 5 ammoniti per il Napoli e 3 per il Cagliari visto che è dato che le statistiche sono queste qui ovvero se andiamo a vedere i falli 10 falli per il Cagliari e 9 per il Napoli e chi ha visto la partita i falli non sono stati nemmeno tutti quanti diciamo falli da sfioramento oppure da spostamento d'aria e i calciatori del Napoli sono caduti ecco perché mi sto un tantino sto diciamo sottolineando ecco una direzione arbitrale che dal punto di vista dei cartellini non tanto mi è piaciuta c'è anche una rimessa laterale totalmente sballata io non lo so che cosa guardano giudici di linea e quarto uomo lo stesso arbitro in campo comunque direzione diciamo non felice la partita che sta salendo in cattedra in base a quella di ieri e che mi è stata ovviamente menzionata nei commenti sotto la live è questa qui il Napoli ha fatto la stessa partita che ha fatto con l'Empoli è solo che poi non abbiamo buttato i palloni dentro abbiamo preso il gol e abbiamo perso la partita io non sono d'accordo perché ricordo il match e sono andato anche a rivedermi le statistiche perché poi può darsi pure che alla mia memoria mi stia abbandonando un tantino però dallo screenshot che vedete XG previsti per il Napoli 0,86 XG previsti per l'Empoli 0,43 65% di postesso palla a 35 18 tiri totale a 8 7 nello specchio eccetera 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 è la stessa partita no perché queste sono le statistiche di ieri XG del Napoli a 2,87 XG del Cagliari a 1,22 67% di postesso palla 2% in più della partita dell'Empoli indice di pericolosità molto più alto questo della partita di ieri 21 tiri totali ci sono due tiri in meno nello specchio rispetto alla partita con l'Empoli questo assolutamente sì ma a mio avviso la partita di ieri è stata una cosa diversa diversa perché per atteggiamento il Napoli dava l'impressione di poter andare a vincere la partita anche avendo avuto il avendo subito diciamo il pareggio immediato dopo l'1-0 di Osime e quindi carattere sì garra sì cazzimma sì è un Napoli che sta ritornando al 100% fisicamente l'abbiamo visto ieri senza che ci prendiamo in giro perché chi lo vuol vedere lo vede chi non lo vuol vedere non lo vede ieri il Napoli ha corso molto meglio ed è stato molto più compatto tra i reparti manca ancora qualcosina a centrocampo e al supporto forse dello stesso Guara ieri Cajuste per me ha fatto una grandissima partita mi è piaciuto tantissimo negli inserimenti tra le linee soprattutto nelle imbucate in area di rigore dove il Napoli cosa ha peccato ieri ha peccato secondo me in alcune situazioni nella lettura dell'ultimo passaggio c'è uno Simen che molto spesso anche grazie ovviamente alla difesa del Cagliari attentissima finiva in fuorigioco e non veniva servito dai compagni che ravvisavano appunto la posizione di offside altrimenti avremmo avuto modo di poter imbucare diciamo molte più volte di quanto lo è stato appunto per tutto il match detto questo io sono contentissimo della partita di ieri della vittoria non mi esalto ovviamente non sto dicendo che dopo la partita di ieri abbiamo risolto tutti i problemi ci sono ancora alcuni problemi da limare in questa fase difensiva che non vuole registrarsi in nessuna maniera prendiamo l'ennesimo collo per una palla dall'esterno complimenti a Cagliari ovviamente che ci ha creduto e continua a crederci per tutti i 90 minuti lo sapevamo già che il Cagliari era una squadra difficile da affrontare soprattutto in questo momento dove hai anche mentalmente diciamo lucidità per poter riacciuffare qualsiasi partita al novantesimo si corre per 90 minuti Ranieri che ovviamente ci mette del suo e qualche coniglio dal cilindro in questo campionato l'ha già cacciato c'era c'era bisogno della massima attenzione e sul 2 a 1 quando siamo andati di nuovo in vantaggio abbiamo tenuto molto bene il campo e abbiamo rispedito al mittente tutte le diciamo le scorribbande che arrivavano nella nostra metà campo allora partiamo un attimo facciamo un attimo le pagelle e dico l'ultima cosa sul match perché dobbiamo appunto registrare questa fase difensiva non non va bene prendere gol sempre diciamo ciclicamente prendiamo gol con palle che arrivano dagli esterni Mazzarri almeno credo che sia opera di Mazzarri diamo a Cesare quel che è di Cesare l'ha letta come si deve la partita tanto è vero che al Cagliari doveva essere vietato o limitato il gioco con i cross e con i traversoni che arrivavano dagli esterni nel primo tempo abbiamo limitato al cento per cento arriva solamente il gol che poi il Cagliari tutta la partita alla fine c'è il tiro di Augello mi sembra nel primo tempo quel contropiede dove abbiamo preso un'imbarcata però su quel contropiede l'ho detto anche ieri sera in live era fallo sullo bot che continuiamo questa situazione dove c'è il fallo sul portatore di palla andiamo dall'altra parte al limite ci rimettiamo un gol che poi magari sarebbe stato rivisto dal VAR me lo auguro ma meno male che Merette è uscito fino al limite dell'era di rigore stranamente ieri ci ha tenuto ovviamente in partita diamo a Cesare quel che dice Cesare e lo faremo anche nelle pagelle Cagliari che è stato poco pericoloso per meriti del Napoli che è riuscito a trovare nella partita di ieri una compattezza tra i reparti corto tra i reparti non si è slegato praticamente niente per tutta la partita abbiamo coperto come si deve diciamo le zone di campo dove il Cagliari poteva rendersi pericoloso arginando la squadra di Ranieri mi direte sì ma voi avete giocato contro il Cagliari è vero che abbiamo giocato contro il Cagliari e non abbiamo giocato contro il Manchester City ma le partite vanno giocate tutte quante e c'è bisogno anche di vedere in che momento tu affronti una squadra che sia essa meno tecnica o una squadra più blasonata perché ci sono momenti e momenti della stagione e il Cagliari arrivava a Napoli in un momento diciamo di fiducia e di verva agonistica molto spiccata le pagelle cari ragazzi andiamo a fare le pagelle ce le ho scritte un attimo che apro il documento perché qua scriviamo in cartelle in tantissime cartelle che poi eccole qua non riesco a trovare eccole qua allora partiamo partiamo questa volta dai da chi è subentrato così ci togliamo un attimo i subentrati e poi andiamo ai titolari ovviamente Gaetano Lindstrom e Zanoli si beccano il solito sei politico perché non c'è stato tempo e né tanto meno modo di potergli dare un voto quindi io gli do un sei politico perché il senza voto non mi piace per chi entra comunque dalla panchina e si fa trovare comunque pronto che siano 5 7 8 10 minuti o 30 secondi sei politico Zanoli Lindstrom e Gaetano 6 verso il 6 e mezzo a raspatori perché a me è piaciuto tantissimo come è entrato in campo a livello mentale si è messo a disposizione prima di di raggiungere il suo ruolo naturale da falso 9 dopo 5 minuti credo 6 minuti o forse una decina di minuti da quando è subentrato comunque si è mosso molto bene sia tra le linee che come attaccante centrale chiamiamolo così a me è piaciuto l'impatto che ha dato sul match quindi 6 e mezzo a raspatori Mario Rui è l'ultimo dei subentrati io gli do un 7 a Mario Rui perché ha spaccato sì la partita e è riuscito anche a leggere quell'azione dove ha preso l'ammunizione in maniera impeccabile perché lì dovevi fermare quella ripartenza ed è stato fatto cosa che il Napoli l'anno scorso un tantino non aveva nel leggere queste situazioni che potevano essere un tantino pericolose e buttare praticamente l'avversario a terra facendo fallo ti becchi il giallo bene così quindi per me Mario Rui anche che pur essendo entrato nel secondo tempo è un 7 pieno per ciò che ha dato al Napoli e ha cambiato poi il Napoli Walter Mazzarri e poi passiamo all'11 titolare Walter Mazzarri un 6 e mezzo a Mazzarri perché non gli do 7 a Mazzarri perché avrei voluto vedere Lindstrom un tantino in più non è che io abbia qualcosa contro chi non fa entrare Lindstrom deve entrare sempre Lindstrom eccetera eccetera però ragazzi abbiamo secondo me un crack in panchina pagato quasi 30 milioni o giù di lì 25 e rotti che deve giocare deve avere minutaggio perché può essere un'arma letale in più per le partite che verranno ecco perché sto solo argomentando questa situazione comunque Mazzarri piena sufficienza anche nei cambi è come e come ha visto la partita diciamo come ha letto il match nel mentre ecco si giocava la partita passiamo ai titolari 7 a Meret e mi direte ma tu sei sempre stato sei sempre stato critico con Meret sì io continuerò ad essere critico se ci saranno prestazioni insufficienti per quanto riguarda le basi del calcio movimenti posizionamenti eccetera eccetera ma quando si fa una partita dove sei stato poi secondo me anche decisivo su quell'uscita perché potevamo capitolare anche mentalmente prendendo il gol su quel contropiede va detto va ribadito e va dato ovviamente a Cesare quel che è di Cesare come dico sempre Meret 7 in pagella ieri e va bene così Di Lorenzo 6 e mezzo a Di Lorenzo assolutamente sufficiente la prestazione del capitano in spinta e nella doppia fase anche in quella difensiva ha fatto da raccordo anche con Anghissae anche con Cajust che spesso da sinistra veniva a destra così come si scambiava la posizione anche Anghissae andava dall'altra parte più che sufficiente la prestazione del nostro capitano Rachmani 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 è quello che sta pagando secondo me più di tutti la condizione fisica che sta tornando nel senso che lo vedo un tantino ancora imballato anche nella velocità di pensiero ma credo che sia una conseguenza di gambe pesanti ecco perché prendiamo un'imbarcata sulla sinistra nel secondo tempo dove in primis eri un tantino troppo verso il nostro centrale di sinistra punto secondo devi avvicinare l'avversario nella corsa verso la porta al limite se si rende pericoloso prima che entri in aria cerchi di di fargli fallo di prendergli il pallone ovviamente non ce l'ha fatta ma va bene così è solo una situazione che volevo analizzare per puntualizzare appunto il voto che diamo a Racamani sufficienza comunque nella partita di ieri nella maniera più assoluta anzi diamogli un 6 e mezzo a Racamani di incoraggiamento Juan Jesus se non se lo perde Racamani se lo perde Juan Jesus l'avversario quindi abbiamo preso il gol pesa pesa comunque sul voto e su una pagella 5 e mezzo a Juan Jesus nella maniera più assoluta non sto qui a sindacargli ovviamente tutto l'andamento di una fase difensiva però ieri insufficiente secondo me la prestazione di Juan Jesus un 6 meno forse una sufficienza giusto giusto per Nathan ma chi gliela diamo la sufficienza a Nathan anche per l'andazzo da inizio stagione dai un 6 quasi a Nathan diciamo rivedibile a settembre dai così anche se la prestazione è stata anche condizionata dalla botta alla testa che vuoi o non vuoi a ha influito un tantino sull'andamento poi post diciamo post scontro però non è stata la miglior partita del brasiliano un 6 rivedibile a settembre per Nathan anche sa allora anche sa ieri non ha fatto il partitone che possiamo dire anche sa che partitone che ha fatto ieri ma ma ha fatto una partita attenta in fase di contenimento pochi palloni sbagliati poche decisioni anzi quasi nulle le decisioni prese avventate su una linea di passaggio su un qualche dribbling dove ti vai ad incaponire bene così sufficienza anche per l'obotica ieri il Napoli ha costruito molto meno secondo me diciamo ha costruito molto meno dai piedi di l'obotica come come primo passaggio in fase di impostazione però l'obbo comunque ha fatto una fase di interdizione e di direzione in un centrocampo per quanto ci siamo riusciti perché la linea mediana va ancora migliorata comunque sufficiente la prestazione di l'obotica nella maniera più assoluta anzi gli diamo uno a zero venticinque più di Anguissa dai sei e zero venticinque Cajust sette a Cajust sette a Cajust perché viene chiamato in causa da titolare perché Zerischi ed Elmas ovviamente hanno dato forfè si fa trovare pronto tanta gamba lucidità nell'inserimento e se fosse entrato anche quel tiro dove è rientrato sul sinistro sarebbe stata una prestazione da sette e mezzo otto secondo me per quello che ha giocato poi può darsi che io mi stia facendo accecare dal nuovo acquisto è un ragazzo che viene dalla panchina io ci tengo a sottolineare sottolineare che il calciomercato che ha fatto il Napoli al di là del centrale non preso è completamente sufficiente o anzi un tantino di più perché Nathan l'hai pagato quattro soldi per il calciatore che hai secondo me preso un ottimo un ottimo difensore in prospettiva comunque sette accaiuste complimenti per l'essersi fatto trovare pronto nella partenza da titolare dove non sono d'accordo su tante pagelle che ho letto è il voto di Quara maggiore di quello di Politano parliamo dei due estremi d'attacco per me se vogliamo dare sette a Quara Schelia per il gol per il gol partita eccetera eccetera dobbiamo dare sette e mezzo almeno a Politano quindi io do un un sei e mezzo a Quara Schelia per il gol partita e per l'essersi l'essersi non mi viene quest'essersi stamattina per l'essersi sbloccato anche in fase realizzativa era una cosa che ha detto anche Mazzarri in conferenza post partita c'era nervosismo anche per Osimè da questo punto di vista di buttare la palla dentro si sono sbloccati tutti e due è ottimo per il Napoli comunque sei e mezzo a Quara è sette e più a Politano tendente anche al sette e mezzo perché è una spina nel fianco per tutta la partita e Politano fa una cosa importantissima eravamo credo oltre il settantesimo dovrei andare a riprendere il minuto ma credo oltre il settantesimo comunque il Cagliari arriva quasi in area di rigore del Napoli sulla nostra fascia destra sinistra del Cagliari Politano non ci pensa due volte a terra il calciatore del Cagliari fuori all'area di rigore perché si stava creando una situazione pericolosa e dopo aver corso tutta la partita e aver fatto quello che ha fatto il Polisci ieri è tanta roba perché a livello di lucidità e rapidità di pensiero devi comunque valutare la situazione in un non nulla ottimo 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 Politano 7,25 a Politano 6,5 a 4 diamo diamo un 7,5 a Tosimene do un 7,5 a Tosimene perché il primo goal ovviamente è rientrato il maestro con i suoi cross fantastici che impattano la testa di Tosimene quasi in automatico e diventano dei tiri fortissimi da questo punto di vista e va gli va dato anche il merito del secondo goal perché Tosimene fa una cosa stratosferica tre palleggi con il ginocchio con la coscia scusate si aggiusta il pallone con la testa si infila e si incunea tra tre avversari e riesce cadendo con le sue lunghe leve ovviamente e con la stazza fisica a mettere quel pallone in area di rigore verso il secondo palo dove Guara Schelela completamente solo palo interno rete e abbiamo portato la partita a casa quindi può darsi che a livello di risultato il gol decisivo l'abbia segnato Guara ma l'uomo partita di ieri per me rimane comunque Victor Osimene che nella foca dell'esultanza dopo il gol si è tolto la mascherina e si è anche graffiato a quanto ho visto credo che sia andata così perché poi l'ho visto andarsi a medicare vicino alla panchina con un Mazzarri preoccupatissimo che gli chiede ma stai bene ma stai bene Osimene dice sì sì è solo è solo un graffio partita portata a casa vedremo ovviamente cosa succederà negli scontri di oggi si comincerà con Milan-Monza alle 12.30 speriamo di rosicchiare qualcosina l'abbiamo già fatto con la Juve abbiamo rosicchiato due punti sulla Juve e va bene così vedremo anche nelle retrovie la Roma il Bologna la Viola cosa faranno perché la classifica è cortissima dietro al Napoli è un po' più lunga al di sopra ma cercheremo di rosicchiare e guadagnare terreno su chi ci sta dietro cercando di avvicinare chi c'è davanti almeno questa è la missione di Mazzarri e il Napoli e il nostro allenatore ce la metteranno tutta faremo poi un video un altro video credo in questi giorni farò il punto su un eventuale calciomercato nel caso ci debba essere il calciomercato di gennaio e il Napoli faccia degli acquisti mi auguro di sì perché serve un centrale di difesa fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi sempre forza Napoli ciao ciao